Bella a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, io sono Andrew Aerobrine, oggi siamo tornati su, oggi sono di nuovo su Minecraft, ho deciso di fare su Minecraft e mi avete consigliato di scaricare delle, di fare delle custom map, però mi dite sempre, Andrew Aerobrine fai mappe, mappe belle, fai ad esempio quelle di Riki che sono fantastiche, sono italiano, lo so ragazzi, ho deciso, allora visto che me l'ho chieduta tanto, ho deciso di scaricare questa, qui dice che non bisogna mai aprirla in Paceful, adesso vediamo che mappa è, si chiama il Tempio della Vita e io sono in difficoltà facile, quindi va bene, benvenuto nel Tempio della Vita, sporchi questa mappa ti diverta, già mi diverto, l'op infinito, ma cagare, allora, ovviamente consigliato, disattiva le nuvole, le ho già disattivate, se riesci qui lo chiede per iniziare un'altra cosa importante, piazzella che sui cubi di diamante, ah, allora Stare by Devils, che ringrazio, si è stato molto d'aiuto, la mappa è stata creata per un giocatore, se volete provare a giocare in due, non ci sono norme per entrambi, ricordatevi di attivare i common blocks, scusatemi se trovate degli errori grammaticali nei libri, allora, la chiave, regole, libro inutile, storia, punteggio, vabbè, leggiamo la storia, durante l'esplorazione di un giunglo trovi un Tempio, il Tempio della Vita, decidi di esplorarlo, poco dopo sei entrato trovi un anziano signore che pare essere molto allarmato e gli spiega che in fondo al Tempio sono nascosti fondamenti all'universo, un luogo sacro in cui è nascosta la chiavetella, vabbè, io non leggo più, voi se volete leggetela, ve la scaricate questa mappa, punteggio, ogni volta che muori ti scriverà fail, epic fail, e ora partiamo, dai, che l'avventura abbia inizio, anche io voglio che l'avventura abbia inizio, ok, bene, allora, mi avete detto che in ogni stanza ci sono dei boss, compiere le 4 aree di questo piano per accedere a quello successivo, buona fortuna, allora ragazzi, cosa vogliamo partire, andiamo a caso, la torre capovolta, andiamo alla torre capovolta, qui sopra cosa c'è, aspetta, madonna, vai su, la torre capovolta, vabbè, molto, eh, ok, portare l'accesso alla torre capovolta, prendiamo il bottone per accedere, livello di battaglia, livello di puzzle, livello di parkour, ok, andiamo, ui, dove sono, ah, eccomi, oh, che volanti, oh mio dio, ah no, sono lì sopra, ok, oh, c'è una stradina, vai, corri amino, bosco, dove sono finito sempre un bosco, teoricamente qui da qualche parte, è nascosto un protettore, devo trovarlo e sconfiggerlo, oh, oh, non è che per caso c'è lui, Slendy, dove sei, non mi picchiare, devo seguire Torch, mi sa, andiamo, madonna, smetti a dilagare, oltre, non so perché c'è sti lag, lagosi, stupidi lag del cazzo, smetti a dilagare, stupido Fraps, la foresta di Urian, gli incursori saranno sicuramente puliti, e chi è un incursore? Io sono solo un semplice omino, perché l'erba qui è diversa, vabbè, andiamo, non facciamoci domande, poi andiamo, fatta bene, devo dirlo, sterminiamo tutto, picchierò con questi io, questa è la mia arma, nessuno mi può uccidere con i, nessuno mi potrà mai uccidere con i semi ragazzi, attenti che io con i semi sono un mostro, posso picchiare tutti, ora ne ho quattro, ok, andiamo, checkpoint, ok, ho preso il checkpoint, Flagello dei non morti? Wow, 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 oh, che roba di merda, mela dorata, tanti polli, cotti, fortunatamente, ok, e mettiamoci la corazza, anche se non protegge praticamente niente, Ok, noi non leggo il resto, ve lo leggerete voi ragazzi, non stiamo a perdere qui tempo, oh, il paradiso di Slendy è, quindi questo posto in breve, andiamo, una torre, andiamo, ok, questo forse ti aiuterà ad arrivare in cima a una torre, Q, fanne buon uso, freccia e un arco, ah, molto utile, Ok, saliamo, ragazzi, prova di parkour, hop, 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 ok, non ce l'ho fatta, Funziona, sto coso? Prendi la freccia, ok, allora andiamo, saliamo di nuovo ragazzi, Tan tan tan, tan tan, tan tan, tan tan tan, Hop, ok, no, ok, raga, ci si risuono, non è successo niente, andiamo, hop, hop, perché ci sono quei, perché raga, così tanto? Ok, as me, che è successo? Niente, hop, ok, qui, fino a qui ce l'ho fatta, Hop, ok, qui, hop, Ok, ragazzi, credete in me? Ah, no! Hop, 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 solo che io con questo sto morendo, questa prova, provosa, ok, hop, Ok, raga, ci sono e ovviamente ricasco e muoio ma vaffanculo Ok, raga, dopo diversi tentativi ci sono ritornato, ce l'ho fatta e ora ci sono di nuovo oh dio oh dio si no ci sono, sono andato due centimetri più avanti mi sono dimenticato di registrare uuuh uuuh I'm hated ok, e ora PEM PEM NO MACHI DUE COGLIONI CI SONO VATTO SI OK SI SI OK, NON LAGARE NON LAGARE perché sono morto tre volte per colpa di dei lag ma vaffanculo smetti di laggare nooo madonna sono ritornato ancora una volta dopo quattro morti che due coglioni e siamo appena all'inizio ma io non ci credo porca puttana porca puttana impossibile ok raga ci ci sono hop p d adesso e ora hop p gnie 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 uuuh ce l'ho fatta ce l'ho fatta raga sono arrivato ottimo con questo puoi accedere alla sezione Q della torre capovolta cosa stai aspettando e infatti cosa aspetta Q corso prendi tutto prendi tutto prendi tutto chiave Q allora prima di tutto togliamo il cisternetto di merda e mettiamo questo allora ragazzi però qui come faccio a scendere io non voglio morire quindi piano piano senza suicidarci scendiamo come non detto allora ragazzi io faccio faccio un ok ragazzi ci sono bene possiamo continuare abbiamo preso siamo in breve eravamo rimasti che abbiamo preso questo pezzo lo mettiamo qui e ora andiamo alla sezione Q di questa torre capovolta ok allora allora vediamo un po' 12 più 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 32 più 32 uguale allora 12 più 32 12 più 32 allora aspetta no allora 12 più questo è un 32 se no fa un attimo vedere un po' meglio no è un 33 fa quanto allora 12 più 32 fa 45 qual è allora quello no è x è rosa si ragazzi ho preso quello giusto vedete come sono bravo nei calcoli matematici e poi sto di quarzo allora andiamo dove dove devo andare passiamo per il quarzo adoro il quarzo uh uh devo salire lassù hop hop saltello saltellamento ma che cavolo sono caduto hop hop olè allora ragazzi mi servono le trocce perché non ci vedo io non ci sto vedendo una cippa non so se ci vedete voi quindi un po' di torce perché non si vede una mazza ok ok un altro parkour fantastico no tu vieni con me quindi andiamo hop no non cadere ok 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 immagino che non posso saltellare di là no mi devo fare tutta mi devo fare tutta sta strada fantastico posso almeno saltellare chiaramente no devo fare così uh uh ok prepariamoci ragazzi questo è un salto epico ce l'ho fatta ragazzi ce l'ho fatta ok oddio questo è difficile oddio sono vivo sono vivo raga sono vivo sono vivo ragazzi sono vivo che cazzo mi tocca rifare tutto ci sono ok andiamo se non ho arrivato fino a qui e non mi arrendo che cazzo sono ho rischiato di morire per più di una volta hop hop allora qui piano contando anche i lag lagosi ok allora qui bisogna andare piano piano pianino ancora più piano e olè metti la chiave dentro l'hopper per attivare questo lato della torre capovolta ammirate ammirate quanto spazio c'è qui ok allora la chiave devo metterla qui dentro ok andata bene oh e allora il lato qui della torre capovolta è stato attivato bene ok qui c'è la sezione P P di pazzo furioso che ha inventato la mappa no non è vero Ricky eh Ricky sei un grande fai fai delle mappe fantastiche allora questa è la sezione più facile just just sign cosa vuol dire allora prima di tutto settiamo il giorno oh così almeno non devo usare le torce hop 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 questa in effetti è no non devo bufarla allora hop niente lag niente lag niente lag niente lag ho detto non voglio i lag qui lag di merda che mi hanno fatto morire cinque volte già e siamo solo all'inizio raga pensate quando oh cos'è questo ma che cazzo mi vaffanculo posso saltare hop si visto visto che ro bah ma vaffanculo ma vaffanculo andiamo prima ok possiamo andare pipiri pipi fortuna che deve essere la parte più facile hop 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 si e vai omnated hop no niente lag niente lag non li voglio io i lag mi hanno fatto morire basta i lag basta ragazzi ce la stiamo facendo ragazzi possiamo farcela dai ragazzi avete fiducia in me se avete fiducia in me mettetemi un pollicione in su forza ragazzi oh merda ok direi che questo era il pezzo più semplice mi sa adesso devo andare no ma che due maroni no ho arrivato qui adesso devo attraversare tutte queste scale forza 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 ce la puoi mare niente no fustro da ce la posso fare ce la posso fare ragazzi credete in me madonna che roba hop ok dai madonna che cazzo ce la fai a salire sono delle scale madonna madonna donna ma che cazzo fai ci vuole tanto ma vaffanculo sentite raga io sto pezzo lo salto cioè taglio taglio ovviamente taglio niente sono arrivato su madonna ma raga ci sono sto arrivando lentamente lentamente in cima senza ulteriori lag per favore che sono arrivato no ma vaffanculo raga ce l'ho fatta non ne potevo più adesso andiamo tranquilli ce l'avevi fatta andi hai ottenuto la chiave P usala per accedere la sezione P della torre capovolta buona fortuna eh grazie al cazzo mi hai fatto fare 50 50 robe per arrivare fino a qui ma vaffanculo ok ragazzi visto che sapete già che fine faccio non ho voglia visto che non ho voglia di morire un'altra volta perché voglio andare fino a sulla classifica dei top 3 allora quindi decido che non mi butto direttamente come fare non voglio fare il suicida e riscendo tutto a mano quindi ci sentiamo dopo e ho fatta riscendere giù senza morire finalmente una volta tanto che ce la faccio fare una cosa giusta senza morire e ora attiviamo questo lato della torre capovolta della fantastica torre capovolta la sezione P uh pedana ah tutto qui allora è vero che la somma dei quadrati costruiti sui catiti è uguale al quadrati costruiti su lupotenusa si questo è il termine di Pitagora mi chiede anche allora ok ora è una domanda più seria che cosa fanno gli orbitali tipo S ha una forma sferica allora ottimo ora un'altra domanda vediamo se sei attento quale di questi dei seguenti non è il nome di una delle spedettori presenti in questa zona allora la torre O me l'avevo vista la torre P è quella che stiamo facendo adesso la torre Q l'abbiamo fatta la torre R non sono incerto questo questo allora 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 ma brava ci ci co co questa si eccellente ultima domanda la rai di qualcolore è presente in quantità maggiore conta e divertiti e divertiti come vai a divertirti sono troppi ottio qui raga non so cosa fare proviamo a caso dimmi che è quello giusto oh 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 ce ne sono ce ne sono Sono morto Vaffanculo Era quello sbagliato raga Allora raga Taglio E il giallo Si Ce l'ho fatta eccellente Hai superato la sezione P Sedisci la chiave nell'hopper per attivare questo lato Dattore capovolta Cosa? Tutto qui il premio Vedo qui? Delle semplici bistecche Ah no altre bistecche E la chiave Ok Metti la chiave Andiamo Ok ho completato anche questo lato Dattore capovolta Bene tutti contenti Ok allora Andiamo con la prossima parte Oh Ehi Ciao Ciao Spero ti sia fatto male Oddio ne ho senti Che cazzo era? Oddio Oddio Corri 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 Sezione R Torre R Ho sbagliato Ok saliamo ragazzi Questo pezzo Mi piace Fatto prima di tutto E fatto bene Ok No Taglio raga Taglio un bel pezzo Perché qui Mi sa che morirò Un casino di voi Ovviamente sono riuscito ad arrivare qui senza una morte Ma penso che questa sia tutta fortuna Ho avuto un culo della miseria E ora siamo pronti per continuare qui Sto pezzo Oddio non cascare Vai Ole Mi sta andando bene su questa torre Ok Questo è un pezzo più difficile No non è difficile Ok Hop 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 Fuck yeah Ok devo saltare sopra sto coso Ok senza laggate per favore Ho detto senza laggate Oddio 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 Quando a volte il lag ti salva Incredibile Il lag questa volta invece di farmi male mi ha salvato Sarà una cosa rara Epica Oh oh Questo pezzo è difficile Hop Sono vivo almeno Ok raga Eeeh Taglio perché Tanto so che morirò alcune volte Ok No Ma merda Ma merda Ma merda Dai Oddio I lag I lag Il mio gioco è tutto laggoso Dimmi che ce l'ho fatta Siiii Oh seeeh Betc 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 Fucking betc Ok raga Per oggi La Io direi che possiamo terminarla qui, perché basta, mi sono rotto i coglioni. Se il video vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace, anche la pagina di Facebook e il link lo trovate sempre in descrizione. Se non siete iscritti iscrivetevi, noi ci vediamo in un prossimo video.